Comunque intanto che siamo qua in attesa faccio un'introduzione di Massimiliano Diaco. Io l'ho conosciuto anni fa ed è forse stato uno dei primi momenti di risveglio e tra l'altro l'ho visto alla trasmissione delle Iene in televisione, quindi quando ancora anni fa avevo la televisione adesso non ce l'ho più e ho subito capito che c'era qualcosa di straordinario nella sua storia. Adesso io non voglio anticipare nulla di quello che ci racconterà, però appena terminata la trasmissione delle Iene immediatamente ho sentito il bisogno di contattarlo e poi caso vuole ci sono riuscito e da lì abbiamo cominciato a collaborare e poi ho scoperto che Massimiliano aveva fatto qualcosa di straordinario, non si era fermato solo a se stesso e alla sua famiglia ma aveva creato addirittura tutto un movimento dietro di persone pronte a chiamare a se stessi per cambiare il mondo con quello che leggete nello sfondo che purtroppo non vedete che si chiama Alimentiamo la Salute. Adesso allora lascio la parola a Massimiliano così ci parla di Alimentiamo la Salute e delle alternative alle cure chelantiche, come aveva anticipato l'ospite in sala, sì sono utili ma non si possono fare a lungo termine perché distruggono, portano via anche le sostanze benefiche del corpo. Quindi come si fa Massimiliano a eliminare le porcherie con il detox? Allora intanto come dicevo prima ringrazio Mida per avermi invitato in questo evento veramente straordinario, Enrico per la relazione che ha dato, il senatore Bartolomeo Pepe, Rosario Marco Marciano, Marciano, Alessandro, anche Alessandro Desposito, quindi tutte le persone perché è veramente stato qualcosa di straordinario questo evento. Allora io ho una storia, io non sono un medico, intanto vi anticipo che non sono un medico, ho aperto un'associazione che si chiama Alimentiamo la Salute perché a un certo punto è successo a mio padre come penso tante persone di incorrere in una problematica che in questo caso era un tumore, un tumore nel 2003 mio padre aveva il tumore al polmone destro, l'hanno operato, gli hanno fatto la chirurgia e in quel caso non ha fatto chemioterapia, nel 2009 si è ritrovato nuovamente nelle stesse circostanze ma questa volta il polmone sinistro con chirurgia sempre in questo caso e chemioterapia e nel 2011 ha avuto un'altra problematica. Poi nel 2011 quando tutto pensavo fosse finito in realtà mio padre ha avuto una metastasi cerebrale. Lì ho capito diciamo con tanti anni perché dal 2003 al 2011 che essenzialmente continuando a fare le stesse cose nello stesso modo potevamo solo ottenere lo stesso risultato. Allora ho incominciato a studiare, a cercare un po', non so se qualcuno di voi ha visto anche un bellissimo film che si chiama L'Olio di Lorenzo, uno straordinario film dove dei genitori, una storia vera, dei genitori avevano avuto delle problematiche con un bambino con una malattia particolarmente rara dove non si investiva. I genitori hanno pensato che si potesse fare diciamo qualcosa su questo bambino e infatti hanno incominciato a studiare loro perché non c'erano altre possibilità, aveva pochi anni di vita. Questo bambino grazie agli studi dei genitori, avendo messo insieme molti medici, molte teste, sono riusciti a tirare fuori questo olio di Lorenzo. Questo per farvi capire che dentro di noi c'è un grande potenziale che è quello della curiosità, quello di fare delle scelte in base alle informazioni che ci arrivano e non in base alla propaganda che ci arriva. Questa è la cosa importante perché poi sappiamo che è tutto veicolato purtroppo attraverso quello che ci propina la televisione, ma in realtà grazie comunque ai social, grazie comunque all'informazione che arriva da altro e anche agli studi scientifici che ci sono fra l'altro, ma che sono in qualche modo insabbiati, non vengono fuori, si può veramente fare delle scelte consapevoli, altrimenti non siamo noi a scegliere, ma è qualcun altro che sceglie al posto nostro. Ed ecco che qua mi riallaccio a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, che effettivamente noi abbiamo un problema, che è l'ambiente in cui viviamo, ma dentro di noi abbiamo anche un nostro ambiente, che sì, è vero che così in alto è come così in basso, è così in basso come così in alto e quindi quello che c'è fuori in qualche modo intossica noi dentro, ma è anche vero che noi abbiamo una responsabilità su tutto questo, siamo noi che scegliamo anche determinate cose, alcune non le scegliamo e non le possiamo scegliere, ma altre le possiamo scegliere. Ad esempio, la scelta di quello che noi utilizziamo nel, ad esempio, punire casa è una scelta nostra. Scegliere, ad esempio, come impattare nell'ambiente interno, come pulire casa nostra, lo scegliamo noi. Il fatto di mettere un cibo piuttosto che un altro dentro un piatto lo decidiamo noi e quando ci raccontano che un cibo vale l'altro è assolutamente una menzogna, purtroppo. Perché in realtà ci sono cibi che sono fortemente decongestionanti, fortemente depurativi e cibi che sono fortemente antinfiammatori e cibo che invece è fortemente tossico e fortemente infiammatorio. Siccome tutte le malattie partono da un'infiammazione, dobbiamo renderci conto che quando facciamo delle scelte possiamo veramente impattare in modo differente e infatti mio padre ha scelto consapevolmente di cambiare stile di vita dopo che ho cambiato stile di vita. Io facendo prima di tutto un'attività depurativa. Beh, mio padre, secondo la medicina convenzionale, aveva pochi mesi di vita perché con due metastasi cerebrali gli avrebbe cambiato totalmente la vita e da lì a pochi anni poteva far ben poco. Ha fatto sì una radioterapia mirata chiamata gamma knife, ma lui, lui, attenzione, non dico che sia la scelta giusta, sia chiaro. Lui ha scelto di non fare chemioterapia, ok? Lui l'ha scelto in modo consapevole perché aveva fatto chemioterapia nel 2009 e lo ha portato a non stare purtroppo tanto bene. Quindi ha scelto consapevolmente nel 2011 di non rifarla, si voleva lasciare andare. E poi in realtà ha fatto una scelta, quella di fare un'attività depurativa, di cambiare prima di tutto la testa, perché qua dentro abbiamo veramente un potenziale pazzesco. La battaglia per la nostra vita vive nella nostra mente prima di tutto, ok? Quindi prima di tutto bisogna cambiare qua. Poi la respirazione. È vero che non possiamo cambiare quello che respiriamo, ma possiamo cambiare il modo di respirare e quindi già questo può fare la differenza. In Giappone, in Cina, che sono, diciamo, tempestati da casini più bestiali in assoluto, li studiano come respirare. Studiano come respirare e saper respirare bene come dovrebbe essere, perché i bambini, se li osserviamo, respirano in modo corretto, cioè col diaframma, ok? Perché poi ovviamente purtroppo con la tensione, le varie cose, incominciamo a respirare qua sopra anche quando non ce n'è bisogno. E sapersi idratare in modo corretto. Sì, è vero, l'acqua può essere inquinata, ma possiamo avere dei mezzi per depurarla, quindi saper, invece di spendere dei soldi nel prendere delle bottiglie di plastica che sono piene di disfenoli, potremmo incominciare a utilizzare quei soldi che utilizziamo per spenderli nelle bottiglie di plastica in un qualcosa che portiamo a casa per depurarci che è l'acqua che abbiamo in casa, ad esempio, e magari anche ionizzarla. In questo modo potremmo addirittura aumentare la quota di elettroni presenti all'interno del nostro organismo. Dopodiché c'è l'alimentazione, perché sappiamo perfettamente, noi pensiamo ad alimentarci, ma in realtà quello che ci serve è nutrirci, cioè portare ogni singolo nutriente al nostro corpo. Ma come facciamo a nutrire questo corpo pensando solamente che il nutrimento venga dal cibo, se non invece dall'intestino che sa assimilare quel cibo? Cioè questa è una piccola e sottile la differenza, non è il cibo che ci nutre, ma è la facoltà del nostro intestino di poter assimilare quel cibo. Questo fa tanto la differenza. Se ci pensi, se ci pensate, noi possiamo mangiare tanto, assimilare pochissimo, tant'è vero che ci sono degli obesi che sono con malnutriti. Quindi non è vero che mangiare tanto significa tanto nutrimento, anzi può portare a grandi scompensi. Quindi saper mangiare in modo corretto, prima con una corretta depurazione affinché l'intestino possa assimilare totalmente, questo porta a un grande risultato. E come si fa una depurazione? È un po' complicato da spiegare, però posso dirvi che lo hanno sempre fatto in tutte le religioni. Si chiama digiuno, il digiuno, il semidigiuno. Piuttosto che un digiuno attenuato, piuttosto che eliminare determinate alimenti infiammatori, porta a migliorare questo aspetto. Noi abbiamo un abuso di alimenti, che spesso tra l'altro sono tossici. E togliere determinati alimenti e aumentare quelli invece anti-infiammatori può fare tantissima la differenza. E quello lo scegliamo noi, chi lo sceglie? Far attività fisica, cioè muoversi, muoversi, muovere il sistema linfatico. Ricordiamoci che il sistema cardiocircolatorio sia una pompa, ma il sistema linfatico non ce l'ha la pompa. Non ce l'ha la pompa. E l'unico modo per muovere il sistema linfatico, guarda caso, è il movimento. Cioè se non facciamo movimento, attività fisica, quelle tossine rimangono dentro di noi e non si muovono, non escono. E abbiamo un potenziale. Possiamo scegliere di fare attività fisica o di non fare attività fisica. Di farla nel modo corretto o di non farla nel modo corretto. Questo fa veramente tanto la differenza. Saper riposare, anzi, miglia ancora, prima del riposo, sapersi rilassare. Cioè quello che in Cina e in Giappone fanno come la meditazione. Cioè fare meditazione tutti i giorni, che vuol dire anche prendersi dei minuti per sé, noi siamo sempre fuori da noi e poco dentro di noi, succede che siamo sempre contratti e questa contrattura non ci rilassa mai e questo genera anche tossine di tipo mentale. Quindi abbiamo sì delle tossine che arrivano dall'esterno, ma abbiamo anche tossine endogene autoprodotte da noi. Quindi abbiamo bisogno di creare un equilibrio in questo, perché è sempre una questione di equilibrio. E poi c'è il riposo, che ne ho parlato un po' prima, ma è importantissimo. Se io non riposo nel momento corretto della giornata, mi ritrovo con grandi, diciamo, squilibri, ok? Faccio un esempio. Chi di voi in sala, ma sicuramente è sicuro, perché so tante persone me lo scrivono, va a letto, diciamo, la mattina, di sera, va a letto di sera, che è più energico di quando poi si sveglia la mattina. Cioè, è un po' strana questa cosa. Questa sembra quasi da jet lag, no? Il concetto è che siamo in un jet lag continuo, perché non stiamo usando il bioritmo circadiano in modo corretto. E quindi ci svegliamo la mattina, che dovremmo essere rigenerati, più stanchi di prima. E questo dove porta? Questo porta a non avere totalmente la responsabilità e l'indipendenza sul benessere. Ricordiamoci che quando non alimentiamo la salute, che cos'è che stiamo alimentando? Cioè, questa è una domanda importantissima. Quando non sai quali sono le basi del benessere, che cos'è che stai alimentando? Certo, fuori abbiamo dei problemi, ma anche qua dentro abbiamo dei problemi e li gestiamo noi, nel piccolo. E se gestiamo nel piccolo dei problemi, possiamo gestire poi anche nel grande dei problemi. Come possiamo pensare di gestire nel grande dei problemi, se prima di tutto non siamo noi il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo? Quindi, incominciamo ad attuare dei piccoli cambiamenti, perché io ho avuto la fortuna di poter parlare con il professor Giuseppe Genovesi, di poter intervistarlo. e lui era uno dei più grandi esperti, eppure si dimenticava di se stesso. Si dimenticava di se stesso. Era talmente fuori con i suoi pazienti che poi ci siamo persi un genio, un genio, veramente un genio. E i suoi pazienti, MCS, sensibilità chimica multita, elettrosensibilità, e chi più ne ha più ne metta su problematiche che in pochi sanno gestire, ad esempio anche la fibromialgia, sono tutte problematiche di impatto sia ambientale, ma non solo, perché noi abbiamo una responsabilità. Certo che quando siamo saturi diventa sempre più difficile. Quindi io dico sempre, è assurdo scavare un pozzo quando si assete, bisogna pensarci prima. Che cosa possiamo fare da domani? Attuare da domani dei cambiamenti che ci consentano di migliorare le performance interne, nostre? Questa è una domanda importante. E con la depurazione lo possiamo fare. Ovvio, ci sono tecniche depurative, tecniche depurative. Noi abbiamo scelto di fare, io ho scelto di creare un percorso, grazie al fatto che mio padre ce l'ha fatta e guarito attraverso questo sistema, di creare un percorso che si chiama Detox Revolution. Ma ce ne sono n, potete cercare su libri, potete cercare dovunque. Non è il concetto, è di muoversi, di muoversi per ottenere dei risultati. E tutti i giorni possiamo fare delle attività noi nel nostro piccolo. E non c'è nessuno che ci può, diciamo, non possiamo toglierci la responsabilità, altrimenti il potere ce l'hanno gli altri. Altre cose che per me sono importanti dire è che altri metalli tossici, come dicevamo prima, li abbiamo in bocca. Ragazzi, li abbiamo in bocca. E si chiama mercurio, se non entro nell'amalgama i dentali. Come possiamo pensare di andare a lavorare all'esterno se prima non ci togliamo via i metalli che abbiamo dentro? E attenzione, non è che domani andate dal dentista e gli chiedete di togliere via queste amalgame così. Cioè, perché c'è da cercare, chi lo fa, una rimozione di amalgama in modalità protetta, con tanto di diga e con un aspiratore. Perché se non lo fa in modo corretto, vi intossica di più e anche il dentista, dopo 5 o 6 che ne fa, secondo me è dall'altra parte. Quindi il concetto è importante trovare chi sa fare le cose fatte bene, perché come fanno tanti cose fatte male, ce ne sono non purtroppo altrettanti che ne fanno fatte bene, ma ci sono chi le fa bene. Quindi cerchiamo chi le fa bene. E poi un'altra cosa molto importante è il taglio. Ragazzi, c'è un metallo che è il taglio, che è usato per gli insetticidi, per i fuochi d'artificio, per esami cardiologici. Il taglio è il veleno numero uno, cioè è un veleno pazzesco. Il sofforato di taglio è in colore, non ha sapore e si scioglie perfettamente nell'acqua. E io ho avuto persone che mi hanno contattato che hanno avuto avvenenamento da taglio. Ovviamente non è che tutti i giorni arriva il taglio nell'acqua, ma ci sono aziende che ogni tanto scaricano del taglio nell'acqua, nell'acquedotto. Ma il problema è che non si sanno bene i sintomi, perché se sapessero un po' bene i sintomi, poi ci sarà magari modo di fare un altro evento magari su questo, ma vi assicuro che il taglio è un altro problema importante. Ok? Non so se qualcuno mi vuole fare qualche domanda, ma si apre uno scenario ovviamente incredibile. Un attimo solo. Come si chiama? Raffaella. Vorrei sapere in breve, un po' più sinteticamente e semplicemente, delle linee guida per quanto riguarda l'alimentazione. Abbiamo parlato prima del glutine, che nella maggior parte dei casi ci obbligano con le multinazionali, che anche modificano, giustamente pure intestinale. Delle linee guida per quanto riguarda semplicemente un'alimentazione anche più naturale. Grazie. Grazie per la domanda. Allora, innanzitutto sì, il glutine è uno dei più grandi problemi che abbiamo, ma più che altro perché esiste questo grano che si chiama grano creso, che è un grano che è stato modificato, cioè non è un grano classico. Cioè esistono dei grani che sono i grani antichi, che sono dei grani diciamo tipo il farro, il timilia, il senatore cappelli, sono dei grani antichi che hanno un glutine completamente diverso. Il problema è che ne abbiamo talmente tanto di glutine assorbito che abbiamo un intestino che va prima di tutto depurato. Quindi sì, eliminare diciamo il più possibile il glutine o più che altro, più che eliminare, creare una rotazione dei cereali, cercare di incominciare a discernere tra prodotto ed alimento, perché anche questa è una cosa che in molti non comprendono, cioè una pasta, ok, non è un alimento. No, non è un alimento. La pasta è un prodotto. L'alimento è il chicco. Il chicco è l'alimento, la pasta è un prodotto. Quindi se io provo a prendere la pasta e la metto dentro nella terra e provo a aspettare che germogli, non ti germoglia la pasta, ok? Quindi il concetto è che dobbiamo riprendere il contatto con gli alimenti e incominciare a mollare il più possibile i prodotti. So che è difficile, perché siamo abituati, come tutte le cose. Non è molto diverso da lasciare una sigaretta, cioè non cambia di molto, perché siamo abituati. Cioè l'abitudine ci porta ad avere un problema nel mollare le nostre abitudini, no? E anche il cibo, il cibo è correlato ad emozioni, il cibo è correlato anche a delle cose chimiche che succedono dentro il nostro corpo, specialmente l'utine tantissimo. E abbiamo una flora batterica intestinale che è due se non tre volte le cellule che abbiamo dentro il nostro corpo. Quindi forse questi batteri in qualche modo diciamo creano delle molecole che interagiscono con l'asse intestino-cervello. E quando io ho un disequilibrio nell'intestino, perché ho mangiato per tanto tempo quell'alimento, i batteri che sono presenti nell'intestino sicuramente sicuramente vorranno quel tipo di cibo. E siccome sanno creare molecole, creeranno in te voglia di mangiare quel glutine. Ma non è che sei tu che vuoi il glutine, ma è perché c'è un'esigenza dei batteri che convivono con te. Quindi dobbiamo fare un percorso depurativo che porta ovviamente a crisi depurative, né più né meno come una persona che si, diciamo, si disintossica dalla droga. Non è una passeggiata disintossicarsi da una droga, no? La stessa cosa è quando siamo saturi di determinati alimenti che non sono alimenti, ma che sono prodotti. esistono i quattro veleni bianchi che sicuramente da subito vanno tolti, che sono lo zucchero, il sale, il latte e la farina bianca. Quello sicuramente è il primo passo fondamentale. Togliere o comunque ridurre il più possibile, perché non sono alimenti e sono i quattro veleni bianchi per eccellenza. Poi, certo c'è da fare, io dico, secondo me tutti siamo in ritardo nel fare un'attività depurativa. L'attività depurativa non è né più né meno che fare un tagliando al proprio organismo. I VIP lo sanno perfettamente e ogni tanto vanno a fare questi retreat di una settimana, dieci giorni, in posti dove solitamente ci sono medici che gli fanno gli esami prima e dopo, dove essenzialmente li mettono a semi-digiuno, ok? Li mettono a semi-digiuno, ovviamente controllati, ovviamente in un certo modo, perché si fanno pagare, si fanno pagare diecimila euro magari per una settimana per fare un digiuno dove non mangiano, però controllati. Allora il concetto è, noi cosa possiamo fare nel, diciamo, da subito? Beh, innanzitutto informarci, capire, perché poi distinguere tra ciò che voglio fare e non voglio fare dipende dall'informazione che ho. Ma se l'informazione non ce l'ho, adesso abbiamo dato un là. Poi ovviamente se volete dentro nella mia pagina Facebook che si chiama Alimentiamo la Salute, piuttosto che sul mio profilo, io parlo tanto di queste tematiche, non si può sviscerare una tematica così ampia in breve tempo. Sicuramente vogliamo dare valore aggiunto al cibo, partiamo dal cibo che ha potenziale di vita. Qual è il cibo che ha potenziale di vita? Quello che ha presenza, che presenta gli elettroni dentro, ed è la frutta, la verdura cruda, perché già quando la cuoci non ha più elettroni, ok? Quindi noi abbiamo uno scompenso di elettroni e non avendo degli antiossidanti, tutte quelle reazioni che ci servono per ricreare equilibrio diventa un bel problema. Allora, come possiamo aumentare gli antiossidanti? Più frutta, più verdura. Qualcuno mi dice, eh ma la frutta è contaminata, eh ma la verdura è contaminata. Sì, e mettiamo di nuovo l'accento sul problema. Intanto cerchiamo magari chi ha la frutta meno contaminata possibile, perché l'incontaminato non esiste, ok? Togliamoci della testa che esista l'incontaminato, perché comunque già le piogge si portano dietro le cose, quindi, però se io già vado da un contadino che so che gestisce le cose in un certo modo, o comunque cerco qualcuno che lavora in un certo modo, già ho un lavoro in più. Ma noi ci dimentichiamo che quel cibo che magari ha una base tossica contiene dentro una base antiossidante. E questa è una cosa importantissima. Cioè c'è un equilibrio che viene ripristinato dal fatto che ci sono gli antiossidanti dentro. E dobbiamo dare valore a questa cosa, se no diamo sempre e andiamo a mettere l'accento sempre sul problema. E non andiamo mai a pensare a soluzioni. Le soluzioni ci sono, le abbiamo davanti agli occhi. Cioè fare un cambiamento di stile di vita. E quello dipende unicamente da noi. Pronto? Sì. Allora, abbiamo problemi? Sì? Potete abbassare un attimo? C'è un riverbero, sì. Allora, devo dire che il tuo contributo massimilare è stato veramente notevole. e per rispondere per completezza, diciamo, a quello che la domanda che ha fatto la professoressa Raffaella ti aveva chiesto un protocollo, diciamo, legato alla sintesi, se tu mi permetti. Sì, la sintesi. C'è nel senso che mangiare i prodotti alcalini era questo che volevo dire. Sì, la sintesi è abbastanza complicata. Mangiare prodotti che mettono il pH in condizione di poter, come dire, toglierti dall'infarmazione portando il corpo verso la calinità. E questo lo puoi fare evitando i zuccheri, le farine e mangiando latte, ad esempio, i famosi peleni, quello che diceva molto, per esempio, Dimmi. Posso aggiungere una cosa? Allora, intanto una cosa che potete fare, è molto semplice, è quella di andare a fare un esame facilissimo, ok? Vi prendete delle striscette tornasole o delle gocce di fenolo, o anche tutte e due si trovano, sia gocce di fenolo che striscette tornasole. E vedete il grado di acidità che avete presente nel vostro corpo. È vero che il nostro corpo sa sopperire alla grande a qualsiasi tipo di problema, perché è veramente pazzesco quello che può fare il nostro corpo. Però, se noi sappiamo come funziona, cioè quali sono le regole del gioco, invece di continuare a mettere tanti acidi dentro il nostro corpo, che poi il corpo deve fare dei tamponi per rimettere a posto e cominciamo a mangiare più appunto come natura ci dovrebbe mettere in grado di fare, cioè frutta, verdura. L'ideale sarebbe matura in pianta, ma diventa un po' complicato. Poi al limite ci sono degli escamotaggi per il discorso del frutta matura in pianta. Però il concetto è guardiamo subito com'è la nostra urina. perché se andiamo a vedere i valori di riferimento, ci dicono addirittura che, addirittura alcuni laboratori danno che il 4 è ancora buono, cioè 4 pH, 4 dell'urina è ancora buono. Cioè, il valore di riferimento lo dà il neonato. Perché il neonato, quando nasce, mangia, cioè utilizza un alimento fisiologico, che è il latte materno. Lì non si può sbagliare. Cioè, qua siamo tutti d'accordo. Il latte è l'alimento fisiologico del neonato. Il pH dell'urina del neonato viaggia dai 7,5-8. Ok? Quando incominciamo a svezzarlo con alimenti che sono acidificanti, un esempio tra tutti, che è molto gettonato dai pediatri, è il grana. Cioè, utilizzare il grana, il formaggio grana, fa invertire totalmente il pH. Cioè, il pH dell'urina diventa acido e quello delle feci diventa il cadino. Quando in realtà dovrebbe essere il contrario. E questo dovrebbe farci aprire gli occhi su come gestire la nostra alimentazione, già guardando questi piccoli effetti. Attenzione, che non è che da domani vi prendete il bicarbonato di sodio per tamponare, pensando che tamponando col bicarbonato di sodio mettete a posto il problema. Non funziona così. Cioè, bisogna utilizzare gli alimenti, gli antiossidanti. È con quello che mettiamo a posto definitivamente il problema. E c'è un progetto, fra l'altro campano, che si chiama Eco Food Fertility, del dottor Luigi Montano, che è un uroandrologo, che proprio sta vedendo come, con l'alimentazione, l'impatto sul liquido seminale cambia, cambia. Perché è uno dei marker primari per l'ambiente è il liquido seminale. Ok? Quindi si trovano nel liquido seminale, come diceva anche Mida, si possono trovare dei metalli pesanti. Anzi, sicuramente si trovano. Il concetto è che se io mangio in modo corretto, può cambiare totalmente lo scenario. Ok? Attenzione, non è che dall'oggi al domani cambia lo scenario. Le persone pensano che in breve periodo possono raggiungere grandi risultati e in grande periodo magari dicono che magari non ci arrivano. Ma in realtà la cosa più importante è pensare nel lungo periodo cosa possiamo fare con l'alimentazione. E quindi incominciamo a riprendere il contatto con il più possibile, con i vegetali e con i cereali a chicco integrale, se possibile senza glutine, perché sono più, diciamo, è più facile che rientrino nella parte degli anti-infiammatori. Ok? Perché il glutine è pro-infiammatorio. La quinoa, il miglio, l'amaranto, il grano saraceno, anche l'avena. Perché l'avena comunque è un cereale che non ha un glutine, quello classico. Ha l'avenina dentro, che è differente. Quindi già utilizzare maggiormente gli alimenti in questo modo, utilizzando magari di più i legumi, quindi tornare alla vecchia, la vecchia, diciamo, cucina mediterranea, che in realtà era quella che ci usannavano, che non è più quella di adesso, ragazzi. Non è più quella di adesso. C'è inutile che ci inganniamo dicendo che noi mangiamo mediterraneo. No. Cioè, stiamo prendendo delle abitudini dove tutti i giorni c'è la carne, dove tutti i giorni c'è il formaggio, dove tutti i giorni mangiamo prodotti e non alimenti. Prima le donne stavano, giustamente, cioè, una volta era così, le donne stavano più in casa, cucinavano. Facciamo un attimo a chiudere. Sì, scusami. Eh, no, abbiamo quasi la sala e quasi si stanno praticamente, non stanno aspettando noi che chiudiamo, se ne stanno andando da solo. Va bene. Comunque, il concetto penso che sia chiaro. Poi, chiunque voglia seguire meglio questa cosa, basta che... Abbiamo trattato temi che, secondo me, sono tre convegni in uno. Cioè, dai vaccini all'alimentazione... Mi faccio carico e ti chiedo scusa se ti sto tranciando. No, figuriamoci, capisco. Poi ci siete anche... No, perché siamo partiti giù, siamo rimasti proprio in pochissimi e ci fanno segno dalla regina che dobbiamo chiudere. Quindi, facciamo una cosa, riprendiamo questo argomento. Magari, ho già dato a Tony, gli ho detto che dovremmo organizzare un convegno, anzi, a questo punto ne saremmo due. uno sull'alimentazione e che l'azione, quali prospettive, e l'altro proprio esattamente sul tema vaccini, perché sono argomenti che sono strettamente correlati. Credo che, insomma, stasera è stato... Nonostante siamo stati improvvisati, ma abbiamo dato veramente... Secondo me, a me mi è piaciuto molto questo convegno, perché ha dato veramente... Perché lavoriamo con il cure. Esatto, quando le cose si fanno con il cure, questo è vero, non c'è nessuna... Come dire, non c'è nessun ritorno, né politico, né economico, quindi a sto punto qua, a me è uscito un bel convegno e purtroppo l'argomento che è veramente molto interessante, lo tratteremo a sto punto, Tony, io ti do la parola, organizziamo un convegno con il dottor Rocco Fusco, con Massimiliano, dove praticamente ti invito a vedere... Io vengo anche lì, non è un problema. La mia pagina c'è un fatto filmato a Rocco, quando praticamente... Vieni anche qua? Sì, 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 mi sposto, perché questo argomento a me è molto caro. Sarebbe il caso di avere qualche ospite dal vivo. Allora, ti prenderemo in parola, quindi faremo proprio dal vivo questa cosa e organizzeremo un convegno a breve su alimentazione e calazione, quali prospettive, ti ho dato già il titolo, e quindi praticamente chiameremo Massimiliano Rocco Fusco e metteremo su proprio a sto punto, anche perché ho visto che l'argomento è molto sentito. Grazie. Grazie.